Attualmente abbiamo dei problemi che non ci permettono di guardare contro chi giochiamo perché penso che con una prestazione che abbiamo fatto come quella di domenica scorsa anche se giochiamo col pianura che è l'ultimo possiamo avere grossi problemi quindi non è un problema solo di avversario, è un problema nostro principalmente del momento, degli infortunati, squalificati, di come affrontiamo alcune situazioni di allenamento e di gara non è che mi preoccupa il Propagani, mi preoccupa la mia squadra Indisponibili sono Paradiso per ovvi motivi che già sapete per Di Gennaro indisponibile, Pino Buono squalificato, Del Franco infortunato, Novakowski influenzato non vorrei dimenticare qualche altro, c'è Castaldi che non so se viene in panchina perché c'è ancora questa caviglia un po' ballerina, di Gennaro l'abbiamo già detto ogni domenica è sempre 5 o 6, non si riesce mai ne recuperi uno e ne perdi due Di cosa avete bisogno per raggiungere questa salvezza mister e quanto veramente ci credi? Ma almeno avrei bisogno di recuperare tutti, di allenarci tutti per questi due mesi, tutti al completo se ci fosse la possibilità di trovare qualche svingolato che ci possa dare una mano come Under 97, come qualche altro difensore, insomma sicuramente sarebbe il benvenuto però per adesso sto con i piedi per terra e mi accontenterei solo di recuperare quelli che ho